Salve, buongiorno, sono Attilio, vengo da Napoli e mi trovo qui in Turchia per la seconda volta, per la seconda sessione dell'intervento tra pianto capelli che ho fatto presso Elite Air Transplant del dottor Blav. Devo dire che mi sono trovato veramente bene partendo dall'accoglienza, per come mi hanno colto in aeroporto, massima assistenza su tutto, curando tutti i dettagli, l'hotel è una bellissima struttura, molto gentile e personale. Poi abbiamo rifatto la seconda sessione, perché l'anno scorso ho fatto la prima, come potrete vedere io ho trapiantato anche la barba, infatti l'ho lasciata crescere proprio per far vedere il risultato finale e devo dire che sono rimasto veramente soddisfatto. Ringrazio tutto lo staff, tutta l'equip della struttura e per il secondo intervento io ho deciso di farlo perché già essendo rimasto contento della prima sessione ho deciso di fare la seconda perché c'era un'altra zona dei miei capelli che non ero convinto al massimo e il dottore mi ha consigliato di fare una piccola, di intervenire in una minima parte per far sì che quei piccoli vuoti che non mi vedevo fossero riempiti. Io sono arrivato qui con l'intenzione di avere tanti tanti capelli, tantissimi, però loro mi hanno consigliato di non estrarre troppi bulbi perché potevo avere problemi alla zona donatrice, cosa che ho apprezzato tantissimo perché tutto lo staff non sono persone che tendono solo a guadagnare ma prima cosa a tutelarti e far sì che il risultato sia ottimo. Per tutto il resto io vi posso consigliare Elite Trust Funds perché, mi ripeto, dall'accoglienza alla professionalità sono state veramente eccezionali. Io lo ringrazio perché già dall'anno scorso con la prima sessione mi sono ritrovato quasi un'altra persona. Quasi non mi riconoscevo perché ogni giorno mi guardavo allo specchio e ero felicissimo. Mi sono confrontato con altre persone che hanno fatto il trapianto capelli con altre aziende e io non ho visto il risultato a loro come era successo a me, quindi ho fatto un confronto e ho deciso di continuare con la seconda sessione con loro perché avendo avuto buoni risultati col primo ho deciso così. Quindi ringrazio tutti, consiglio vivamente di scegliere loro se siete convinti o avete un minimo dubbio perché poi ci sono persone che vi seguono online tramite media e vi danno tutti i consigli possibili e immaginabili 24 ore su 24, sono davvero disponibili. Vi saluto, qualsiasi cosa vi consiglio di contattare loro per tutte le informazioni possibili. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.